let's see this match obviously still winner a winner vero yes malecate we agree partito già il match sto già registrando siamo sul pezzo è già buona guarda che cosa succederà subito un casino si studiano invece però partono partono diciamo che è un altro di quei personaggi che sono proprio conosciutissimi quindi può succedere uong non ne parliamo proprio mamma marduk che in rage togliela bominio bellissima entra a poco danno fa poco danno davvero guarda smonta ai bambini probabilmente giusto bravissimo è entrato chiude killer ha punito duro chiude killer dopo step 4 che non entra quella si punisce la starter qcb 23 che è confermabile con calcio basso che è garantito toglie se vola 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 presa molto scenica gioco di wong wong davvero non pensavo che se tutto questo potenziale come uovo non pensavo questo potenziale ho visto questo torneo che ci stava che stavano due vero impressionanti ce non è uno che ha fatto anche il secondo posto nel giro uno primo posto già jack comunque guarda è impressionante ti trovi a belle ponte ti trovi un wong questa scopre da starter questa scopre da 12 e ovviamente non è il presone che adesso c'è colpo garantito marduk si rialza con 2 cambia e b1 encounter di brian fa parecchio danno oltre contro mossa bellissima di ogre b4 avanti avanti 2 che è garantita on it ma quante perri gli ha fatto wong che perra tutto rischiato duro ragazzi a gentile richiesta di tutte le ammiratrici di tutte le donne del nostro forum ce ne sono parecchie a gentile richiesta abbiamo anche di nuovo qui con noi ci ha raggiunto nooo e vediamo che adesso the phantom sta conducendo sta conducendo per 2 a 1 e sembra che abbia qualche il flottato con la conoscenza di ogre ehh killer si tra l'altro ecco presa che cambia calcione nei denti che questa diciamo il dentista te la farà pagare pari vediamo i commenti commenti e dai e dai e questo marduk ovviamente è giocato in maniera magistrale hai visto? si gioca veramente bene usa spesso b1 giuno che è qualcosa che io non uso ma mamma mia questo rende il match questo wong non se n'è è davvero un il phantom prende il match Rookhang sarà felice per questo devil è ancora in let me check it out oh sì si ha vinto un while ago i played personally with devil i lost 2-0 and i didn't understand even what was going on it's a really good player yeah it's really incredible really c'è anche neas lo voglio salutare di nuovo perché ci tengo particolarmente lo amo nico caro nico si è spento mi serve il ditino a lui per ma il ditino e io non c'è anche c'è anche e dai Danilo che si prende il primo round primo round questa scopre da starter pericoloso si una tirata come jolly allora 1-1 giù 4 di wong avanti avanti 2 che è la mossa diciamo secondo me è una delle mosse principali di wong giù 4-2 che scopre da da 14 minimo Mardak entra inbound oh whiff a muro presone toglie l'abominio che non viene che non non va a buon fine questa scopre starter e non viene punita rialzo 1-2 1-2 1-2 1 di wong giù 4 punizione a buon alza toglierà l'abominio come di fatti arriva a muro non entra tutto non entra tutto non entra tutto gioca facile Danilo gioca facile whiff whiff punito punito infatti bella questa scopre say hi to devil ok wallah devil devil malekith is greeting you malekith told me to say hello to you malekith on the chat to say hello to you to greet you because last year you made a very difficult to him in a candid tournament as well you was playing you was playing last last year or you was playing with him? yeah you can read oh Starscream says hello as well devil here we go here we go if nobody knows but it's quite tough that nobody knows he is devil per gli italiani questo è devil è il ragazzo che fa il culo a parecchi tecnicismo ok he greet he greet Starscream as well ok comunque se volevate vedere il viso di chi fa il culo agli italiani è appena passato è passato era lui adesso killer doll ha dato 2-1 2-1 vediamo che sembra che stiamo a prendere il punto si è preso si è preso il punto quello che ho notato di killer doll è che la prima partita e daie la prima partita spesso gioco più per studiare personaggio eh in difficoltà dopo ingrana e va e praticamente studia capisce come andare chiaro chiaro è davvero senza contare che vederlo da vicino fare certe cose killer doll ah il prossimo match ragazzi da non perdere semifinale Midtrastorm colui che ha battuto Bode contro Devil e ragazzi ci sarà da vedere l'abominio l'abominio vediamo chi sta scrivendo Super Devil right Starscream vediamo vediamo Super Starscream anche vediamo ma è qui Starscream è un giro con Warang che vogliamo Starscream vogliamo Starscream vogliamo Starscream anche che gioco eh probabilmente di più è 3 3 3 4 years ago che ci stava anche come si chiama quello forte con Marduk cinese coreano no no quello che usa Marduk che causava Marduk hai capito chi è? che adesso non gioca più e dai uuuuuh che world splat cos'è successo un casino uuuuuh macca schiena dai è phantom sveglia se il Sambo è finito nei loser per colpa di David si 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 non lo ricordo ha giocato contro il Lulee se il Sambo è un altro player emotivo è un peccato perché è proprio bravo ah ok veramente bravo eh ci sta Eneas che ha fatto ah Nino Tishu Emon infatti è Tishu Emon quello che dicevo quando venne eh già funese esatto non mi ricordavo se era cinese eh vabbè venne eh comunque venne Tishu Emon e venne anche Starscream e fecerò la finale se non mi sbaglio eh era diere però sto dicendo che Starscream venne parecchio tempo fa e che volevamo che perché viene ancora diciamo capito non è che Tishu Emon yes esatto 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 so we remember we remember you but no Tishu Emon esatto 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 Eneas ma perché non sei venuto a questo torneo dai Eneas che tra l'altro mi ha acchiappato abbiamo giocato online ho perso tipo 12 a 0 niente male mi sembra un risultato abbastanza sì infatti è un risultato abbastanza marcato ma tu diciamo vabbè 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 dai dai pallozzi allora vediamo questo c'è anche Toru buonasera Toru con questo Raven ali dance probabilmente gli abbassa la schiena adesso la sta stupendo adesso la sta stupendo vediamo che questo è Q7 giù 1 che dub di 1 di Mardak 1 2 1 Q7 scopra a 12 scopra a 12 ancora Non potevo per lavoro e salute ragazzi Ah speriamo che ti Infatti ripigliati e poi vieni a trovarci Speriamo che 2 pari 2 pari Bella fatta Si intendevo i round Round 2 pari Come li chiama lui i pallozzi I pallozzi gialli I pallozzi gialli Attenzione Attenzione non ci andiamo Mamma mia Comunque Neas io partecipo al torneo E tu non vieni guarda non ti pumpi lì Aia Adesso Continua Cos'era Ha rischiato tutto E' andata 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 Bravo Killer Doll 3 per D1 a 0 Attenzione La dichiara Ah Praticamente Sasuke mi dice che voleva venire a questo torneo Però era il compleanno della ragazza Ah grande Sasuke So ok next time that you know you will not have Phantom dichiara approvo l'ultima carta Tira fuori qui dalla manica tutti i suoi assi We're gonna wait for you Usa personaggi segreti Dai 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 ci sta Bravo 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 Sicuramente adesso Phantom tirerà l'asso dal cilindro Tirerà Il coniglio La La Me Merda dal cilindro Merdo Adesso Adesso tirerà Cosa tiri il cilindro dai scusa Tiremo se adesso tirerà Tirerà il tirabile Speriamo Partiamo con Io consiglio il B3 B3 Io consiglio B3 Scusate se stiamo in tema merda B3 avanti 2 vai Energia Questa è la presa bellissima Ah no Mamma madre L'ha fatta Entrata E c'è Gian che Che le sta prendendo Ovviamente Killer Doll giocavo bene io Vediamo che sta tirando un pochino a vuoto Killer Doll Sono delle ische che praticamente lui tira Come infatti Entra Wow Quello è garantito Garantito Ok Però se sbagli a tirarlo Scopri 15 Starter Ehi vabbè perché Ehm Ehm Entra Entra La Phantom Ah Questa si punisce da starter Quella si punisce da starter Cazzo killer Cazzo killer toll Pesta dura Scopro Mamma che male Bella Bella B2 di Mandac Difficile da farla entrare Perché Nonostante sia lunga Ehm Parecchio lenta Ehm Te capi tutta la merda Che ti tirano Mamma mia Entra UF3 Vediamo che Phantom lentamente Dai 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 Phantom Phantom non ci abbandonare Wow Il Presune Molto coreografico e scenico Ehi FP2 Tag Punisher Di nuovo il Presune scenico No Vabbè cerca di faccia il muro Quella c'ha Quella c'ha Pum Questa scopre 12 FP2 Super Presune Ehm Jack Hammer Bella Jack Hammer Quella di Orco di Ok Ragazzi la natura mi chiama E per questo vi Vi passo Il bello della diretta 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Faccio questi complimenti Quando tu posti foto su Facebook Con Come ricordiamo Le bello Le bello